Ritardi diffusi sui treni della tratta Milano-Tirano tra lunedì e martedì. I disservizi sono iniziati proprio nel pomeriggio di lunedì a causa di un guasto al bivio Mirabello alle porte di Milano che ha causato ritardi su diverse linee tra cui quelle che transitano da Lecco in provincia di Sondrio. Come un effetto domino i convogli hanno accumulato sempre più ritardi fino a segnare un'ora sui treni che da Tirano dovevano raggiungere Milano. Disservizi sulla tratta anche nella mattinata di martedì quando un guasto al passaggio a livello di Ponte in Valtellina ha provocato ritardi tra i 15 e i 20 minuti su tutta la linea. A causa dell'intenso traffico ferroviario infatti i convogli sono stati rallentati o fermati nelle varie stazioni più del dovuto accumulando così anche ritardi già in partenza specialmente dalle stazioni più grandi come Lecco e Monza. Un vero disagio per i pendolari che usufruiscono del servizio. Proprio in questi giorni tra l'altro il Partito Democratico ha depositato in Regione Lombardia un'interrogazione per conoscere le ragioni dell'aumento del 20% dello stipendio del direttore generale di FNM Marco Piuri che è anche amministratore delegato di Trenord. Non c'è più rispetto dei pendolari anzi di tutti i cittadini lombardi afferma il consigliere regionale DEM Gian Mario Fragomeli. Capirei se il servizio ferroviario fosse migliorato in modo sostanziale ma questo chiaramente non è accaduto.